Comincia l'Avvento, comincia questo tempo importantissimo e questo nuovo anno liturgico da una parola di una profondità, di una bellezza, di una sensibilità molto grande. Siamo nel profeta Isaia, capitolo 63, c'è un grido se tu squarciassi i cieli e scendessi il desiderio di una visita di Dio. C'è un momento appunto in questo racconto, siamo in un'epoca, il testo grossomodo è in un'epoca che è l'epoca del post-esilio, siamo alla parte finale, il cosiddetto terzo Isaia che parla dell'epoca dopo l'esilio, è un'epoca miserabile, povera, dove il popolo è molto oppresso. Ecco, ritorna per amore dei tuoi servi, dice questa lettura, per amore della tua delità, vieni, quando tu compievi cose terribili, che non attendevamo, tu scendesti e davanti a te sultarono i monti, ma ai tempi lontani, orecchio non ha sentito, orecchio non ha visto che un Dio fuori di te abbia fatto tanto per chi confide in Lui. È la memoria di un popolo in condizione di miseria che dice «Ma tu eri meraviglioso, ma tu eri con noi, ma tu facevi cose meravigliose, ma perché, che cosa abbiamo fatto?» E ricorda questo popolo di aver sciupato un'eredità, di aver sperperato un capitale di fede, di aver procurato a se stesso il male. Noi abbiamo bisogno di essere visitati, noi abbiamo bisogno di fare questo grido da poveri che compare in questi due capitoli, il 63 e il 64, che vengono collegati, un po' cuciti nella prima lettura. Ecco, noi abbiamo bisogno di capire come cogliere il Signore che viene, perché l'annunzio di questo tempo di avvento è guarda, che non è che c'è il Signore che sta lassù nel cielo per conto suo e ci sei tu qui che estrisci sulla terra. No, il Signore viene, viene da te, viene nella tua vita. Il problema è che bisogna stare attenti, bisogna stare molto, molto attenti ed essere liberi da qualcosa che possono essere le nostre aspettative, possono essere le nostre pretese. Ecco, dice Gesù, fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. Uno potrebbe dire, dimmelo questo momento, basta che me lo dici, io mi organizzo, non mi piovere a casa così, che ti preparo qualcosa, sono pronto. No, questo non è un problema di visita senza preavviso, no, è un altro tipo di problema. Voi non sapete, cioè noi non sappiamo, non lo sappiamo mai quando è il momento, perché questo è il limite della conoscenza umana. Noi siamo sempre gente che deve essere pronta a qualcosa di più grande di sé. Noi vogliamo sfuggire. Sin da Adamo ed Eva, noi abbiamo questa attrattiva per l'albero della conoscenza del bene e del male, cioè l'albero del capire le cose, l'albero del pretendere, di tenere nel nostro schema la nostra vita. E non è possibile, non c'è niente da fare. Dobbiamo invece allertarci alla novità, essere pronti alla sublimità che non è una cosa che si controlla. Dobbiamo avere il portiere attento e il portiere deve vegliare. Molti palazzi hanno tolto il portiere e poi si sorprendono che entri la gente, lo stesso. Ti credo, ha voluto risparmiare sul denaro del portiere e adesso a chi gli passa per la mente di girare per il tuo palazzo lo può fare, perché non è più controllo. O il posto diventa una casa chiusa e inavvicinabile, o se è una casa visitabile, ci vuole il portiere nella vita. Non so se ci vuole il portiere nei palazzi, non è questa la mia competenza, ma nella vita sì che ci vuole il portiere. Ci vuole qualcuno che sta in guardiola lì, che controlla chi viene e chi non viene. Perché? Per non aspettare il Signore finiamo, per non fermare il nemico, non fermare la menzogna, non fermare l'inganno. E' importante che dobbiamo vigilare, vegliare, aspettare. E' una cosa che noi possiamo vedere come frustrante, ma senza aspettare non c'è vita. Se non fossimo stati attesi da qualcuno, noi non saremmo nati. La gravidanza è un'attesa, la vita è un'attesa. C'è chi sa attendere, chi sa dar tempo alle persone e chi è impaziente. E' interessante che nel libro dell'Apocalisse, al capitolo XII, il demonio viene definito così, pieno di furore per chi ha poco tempo. E' un tipo frettoloso, è un manager che ha un progetto da realizzare, perché lui non ha tempo, tu gli parli, non ha tempo. Ecco, il tempo non lo abbiamo nessuno. Il tempo è infatti di Dio. Non bisogna avere il tempo, bisogna obbedire al tempo, obbedire alle cose, obbedire alla realtà. E invece diventa molto infelice chi è qualcuno che non può aspettare, vive di impulsi, di appetiti, di aggressività interiori. Noi dobbiamo stare attenti, la sera, mezzanotte, il canto del gallo, dice il testo, al mattino sono le quattro veglie notturne, il cambio di sentinella che si faceva ai tempi. Le sentinelle devono stare sempre pronte, perché la vita è importante. Questo testo ci risveglia da un vivere da intontiti. E non dimentichiamo che siamo in una società di divertimenti, di distrazioni, di intontimenti. Noi siamo in una società di narcosi. Dobbiamo costantemente garantirci vie di fuga dal reale. L'avvento è l'annunzio meraviglioso della visita di Dio che implica lo stare con i piedi nella realtà, nel vivere attenti alla vita, nel vivere sintonizzati con quello che c'è in ballo e nel essere pronti alla visita del padrone che torna, tornerà. E quando tornerà sarà bello stare con lui. Chi aspettiamo è meraviglioso. L'avvento è un tempo luminoso, non è un tempo triste. È un tempo di penitenza, certo che lo è. Perché tutto ciò che è incompatibile con la visita del Signore, buttiamolo via, certamente, quanto più possibile. E non ci sorprendiamo che questo vada fatto. Se viene una persona importante a cui tengo tanto, metto a posto la mia casa, preparo qualcosa di buono. Ecco, prepariamoci alla visita, perché il re dei re viene proprio a casa nostra.